eccoci arrivati al terzo appuntamento con questo corso introduttivo ad envergen abbiamo focalizzato la volta scorsa nelle shape che sono legate all'emissione della del fluido del fumo del fuoco o delle particelle oggi iniziamo a introdurre la parte legata alle forze sempre legate però all'emissione però solamente per capire un po come funziona e iniziamo però utilizzare un esercizio specifico per comprendere come funziona il software quindi ci spostiamo a tutto il lato emissione per cercare di realizzare delle nuvole e attraverso questo esercizio ci sposteremo anche nei vari nodi simulazione volume e rendering quindi anche del look del rendering e la gestione della viewport per quanto riguarda il rendering real time e così faremo da adesso in poi cioè avendo intanto inizialmente capito come funziona il software adesso possiamo iniziare a realizzare veramente qualcosa per comprendere un po più appieno come poterlo patronneggiare come poter realizzare veramente qualcosa di interessante allora iniziamo subito cercando di capire un attimino questo concetto delle forze vedete che c'è integrato all'interno dell'emettitore la shape che abbiamo visto la volta scorsa e c'è integrato anche un force di tipo noise in output ovviamente può tirare fuori la forza che si va a inserire in input dentro l'emettitore come forza abbiamo le forze anche in simulazione quindi abbiamo due modalità differenti di andare a gestire il concetto di forza voglio che sia abbastanza chiaro che cosa fa quindi proviamo a scollegarla per il momento non abbiamo forza di emissione come vedete l'emissione avviene in modo perfettamente regolare sul nostro emettitore lo potete notare qui nella forma quindi vedete è perfettamente regolare e poi ovviamente la turbolenza fa in modo che ci sia tutto questo tipo di ovviamente di variazione sia all'interno delle fiamme che del fumo come potete notare però l'emissione continua ad essere perfettamente lineare se vado a collegare la forza automaticamente vedrete che c'è della turbolenza nell'emissione quindi questo è quello che sta facendo di forze ne abbiamo diversi tipi abbiamo il vector field che è un campo vettoriale dove ci sono vettori che vanno a controllare le variazioni di accelerazione di spostamento del fluto all'interno dei voxel e capiremo poi come possono essere gestiti abbiamo una forza tipo punto linea e noise queste sono quelle che sono per il momento implementate all'interno di embergen nell'attuale versione le utilizzeremo passo passo quindi per il momento l'importante è sapere che ci sono e basta quindi possiamo andare a fermare la simulazione adesso vedremo un pochino nel dettaglio i vari parametri poi passeremo ad alcuni parametri della dell'emittitore giusto per capire più o meno come interagisce e inizieremo a lavorare sul nostro primo esempio che sarà quello di realizzare una nuvola o un manto nuvoloso quindi un cloud field quindi proprio un campo di nuvole allora andiamo a riattivare il preview selezioniamo il noise vedete che abbiamo diverse possibilità ovviamente c'è sempre la label nel quale possiamo andare a cambiare nome alla forza possiamo attivarla o disattivarla questi parametri possono essere anche animati e oggi inizieremo a entrare anche nel dettaglio del concetto animazione possiamo andare a spostare noise quindi ovviamente in base allo spostamento della forza avremo una variazione del noise stessa cosa per la rotazione per la scala vedete stesso discorso quindi aumentando la scala ho un tipo di turbolenza completamente differente vedete questa è molto grande quindi ho variazioni molto ampie della turbolenza mentre se vado su una scala molto piccola avrò vedete le turbolenze molto piccole ma per andarle a valutare meglio cerchiamo di utilizzare un livello di dettaglio maggiore quindi come al solito andiamo a riscalare il nostro voxel space quindi andiamo meno 12 più 12 e applichiamo la nuova risoluzione stiamo sicuramente più lontani stavolta ok ecco il la nostra simulazione ritorniamo al noise così capiamo un attimino come sta variando quindi ritorniamo una scala di 35 come abbiamo fatto prima e vedete come l'evoluzione è molto ampia vedete che tipo di distorsioni sta andando a creare quindi molto molto più grandi per certi versi anche molto interessante perché riesce a creare anche sul fumo sopra un effetto un po più esplosivo vedete un po come se ci fossero varie esplosioni che poi si converterà a fumo quindi anche la simulazione ne deriva è molto più ricca rispetto alla precedente quindi vedete riesce a darci la possibilità di ottenere qualcosa di molto molto interessante quindi potete andare a variare la scala cosa interessantissima avete il seed il seed è un seme di partenza ovvero un numero dal quale un noise va a generare il suo disturbo questo significa che possiamo avere noise tutti configurati nello stesso modo con i stessi settaggi ma che poi hanno un seed differente e quindi in realtà sono differenti tra di loro pur muovendosi nello stesso modo e avendo la stessa scala come al solito abbiamo gli altri dettagli andiamolo a fermare perché era letto un pochino voglio spiegarvi un po i parametri ok gli altri parametri abbiamo le ottave le ottave essenzialmente vanno a generare più dettagli all'interno del noise quindi più elevato il parametro più ci saranno dettagli più ovviamente di entra pesante il calcolo proviamo per esempio a vedere con 5 ottave dovremmo vedere vedete maggior dettaglio nella turbolenza per farvi un esempio molto molto semplice magari posso direttamente prendere affiniti e vi faccio un piccolo schermo quindi il discorso è molto semplice scusatemi è volata la penna della tavoletta tutto sotto controllo allora immaginiamo un'onda di un noise allora immaginiamo una cosa che fa più o meno così variazioni sul noise in questo modo ovviamente è molto definita in modo molto molto semplice però prendetela per buono per capire più o meno come funziona e questo può essere con ottave 1 se io per esempio setto ottave 4 quindi un livello più elevato quello che vado a ottenere praticamente è che vengono aggiunti dei dettagli intermedi e quindi molto probabilmente inizio ad avere questa forma qua quindi un po' come se avessi delle variazioni ora pensate ve le faccio a punta solo perché poi in base a determinati valori potrebbe diventare così ma immaginate anche una situazione del genere quindi seguo lo stesso andamento di prima ma con un livello di dettaglio maggiore quindi del disturbo più piccolo all'interno e quindi questo quello che mi porta praticamente è avere una situazione nella quale ovviamente andrò a definire un maggior livello di dettaglio all'interno della della turbolenza abbiamo poi come al solito tutti i parametri legati al noise quindi vedete la cunarity gain e questi ci vanno a controllare comunque la frequenza per quanto riguarda la cunarity il gain ci va a cambiare l'amplificazione del noise ad ogni diciamo ad ogni ottava che viene creata comunque poi giocando con i parametri capiremo come utilizzarli e perché l'amplitude ovviamente è quanto ne viene applicato nel senso se io setto a 0 ovviamente è come se il noise non ci fosse perché l'amplitude quindi la scala di applicazione della noise del disturbo è 0 lasciamo che vada in play però per esempio se setto 10 ovviamente la turbolenza diventa molto elevata ricordate che questa turbolenza assegnata come forza all'emissione ovviamente genera turbolenza in fase di emissione poi tutto il resto è dato da velocità accelerazione e diciamo turbolenza successiva del fumo ma il reale disturbo lo vediamo in fase di emissione e anche questo è molto interessante perché vedete riusciamo a tirare fuori una simulazione molto 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 dettagliata potrebbe sembrare per esempio mi viene in mente un impianto d'olio che è esploso e quindi è incendiato o comunque qualcosa dove c'è un materiale che ha un livello di combustione molto elevato e questo potrebbe essere l'effetto fermiamolo così accelera un po il tutto abbiamo poi il bias che può essere utilizzato che andrà a shiftare comunque il noise che viene realizzato e calcolato vediamo se comunque sia in questa situazione visibile non è facile vederne magari la variazione però vedete per esempio l'ho spostato vedete il bias è spostato un po sull'asse x quindi fa un po da quasi da energia che sposta verso un lato comunque poi anche questo lo andremo a reali a utilizzare successivamente vedete che riportando la zero ovviamente il noise viene ricentrato verso l'interno diciamo ricentrato un po tra virgolette e poi animazione ovviamente qui come al solito se mettete un valore molto elevato l'evoluzione del noise sarà molto veloce infatti dovremmo vedere abbastanza caos nell'esplosione se mettiamo un animation speed molto basso in realtà la variazione avverrà più lentamente quindi si comporta in tutto e per tutto come una texture procedurale di noise tutto questo per introdurre un po le forze poi ovviamente ogni forza avrà i suoi parametri la vedremo di conseguenza quando ci servirà per una simulazione direi che adesso la possiamo fermare ma possiamo anche ritornare su valori un po più standard quindi me ne torno al livello dettaglio base tanto poi vedremo quando utilizzarlo quindi lasciamo amplitude a 4 mettiamo l'ottava 1 come era all'inizio e mettiamo magari scala 10 quindi abbassiamo il tutto entro limiti un po più accettabili e a questo punto possiamo introdurre alcuni dei valori legati all'emissione abbastanza velocemente perché voglio iniziare a utilizzare questo setup come ho detto per realizzare una nuvola e quindi poi andremo a cambiare anche l'emettitore lo shaping dell'emettitore usando alcune delle tecniche che abbiamo analizzato nella puntata precedente quindi fermiamo per un attimo allora iniziamo a introdurre i primi parametri dell'emettitore facciamoci un pochino di spazio all'interno dell'interfaccia abbiamo come vedete parametri ovviamente queste piccole tab si possono chiudere basta cliccare sul nome ce ne sono veramente tanti di parametri quindi una cosa che inizieremo adesso a introdurre è per esempio l'attività dell'emettitore la possibilità di animare l'attività e sarà interessante capire un attimino come funziona quindi i primi passaggi sono questi allora prima cosa abbiamo la possibilità qui di passare all'interfaccia avanzata vedete advanced interface non fa nient'altro che aggiungere una serie di parametri e dettagli legati magari ad alcune sezioni quindi per esempio se lo attivo vedete che inizia a uscire fuori smoke temperature and fuel mentre prima essenzialmente emission ok quindi alcune cose vengono espanse per poter lavorare meglio su alcuni dettagli ritorniamo a un livello di dettaglio un po più basso per vedere variazioni molto molto velocemente quindi risetto le stesse scale che abbiamo sempre usato in modo tale che il voxel è più o meno sempre lo stesso ok perfetto applichiamo nuova risoluzione ritorniamo sull'emettitore e andiamo a vedere ok scusate abbiamo spostato l'emettitore non è un problema lo possiamo riportare in basso ok perfetto allora emettitore ovviamente se disattivo vedete si spegne quindi una cosa che posso andare a fare vedete che qui c'è un piccolo selettore e posso settarlo in tre modalità differenti vediamo dal tooltip andarlo a controllare vedete per esempio col primo click per il momento andiamo a utilizzare solamente il primo click vedete che diventa un cronometro e vedete che qui c'è una barra che diventa la nostra essenzialmente una specie di top sheet quindi abbiamo la possibilità di settare delle chiavi allora andiamo a vedere che cosa possiamo fare io posso andare a cliccare col tasto destro del mouse in un determinato fotogramma e gli setto la chiave dico che qui è attivo ok poi per esempio dico che alla fotogramma in questo caso più o meno qui orientativamente lo lasciamo ancora attivo e poi lo spegniamo ok che cosa succede se ritorno indietro la simulazione sarà questa vedete è essenzialmente un piccolo botto tutto qua ovviamente le chiavi qui le potete spostare quindi tasto sinistro del mouse e andate a spostare la chiave vedete essenzialmente fa questo quindi emetterà da questo fotogramma a questo fotogramma e dopo di che smetterà di emettere fuoco e fumo quindi come vedete è molto semplice andare ad animare le chiavi poi capiremo meglio come andarle a controllare ritorniamo al valore non animato quindi basta che riclicco nella condizione normale vedete che vengono disattivate le chiavi risultato è sospento quindi basta che lo vado a riattivare ritorniamo indietro lanciamo e abbiamo la simulazione nuovamente durata del burst vedete che essenzialmente questa è la un parametro che va a controllare la durata dell'emissione espressa in secondi se vado a aumentare la durata vedete che quello che sta succedendo è che varia leggermente il come emette il tutto andiamo un'altra volta su un valore molto basso vedete che ho delle piccole variazioni quando vado a fare la simulazione ma perché perché in realtà è il discorso più interessante per quanto riguarda il duration of burst è il potere avere burst successivi l'uno all'altro in questo momento vedete non c'è tempo tra un burst e l'altro quindi lui continua a emettere fluido in questi cicli ma se io dico per esempio che voglio una pausa di un secondo vedete quello che fa ha un burst emette quindi per mezzo secondo poi sta fermo un secondo se io gli dico di emettere per esempio per due secondi emissione per due secondi smette un secondo riemissione per due secondi ok quindi ovviamente le variazioni che vedevano semplici riadattamenti del fluido mentre andavo a variare il duration of burst ma per vedere un reale utilizzo del parametro devo andare a mettere delle pause tra i burst quindi tra chiamiamo il momento nel quale viene fatta comunque l'emissione quindi questa è un'altra delle caratteristiche che abbiamo possibilità di andare a controllare posizione e rotazione dell'emettitore quindi sempre traslazioni e trasformazioni non è importantissimo in questo momento fuel rate il fuel rate ci va a controllare quanto fuel viene aggiunto quindi quanta forza viene aggiunta di fuel ovvero di materiale incendiabile all'interno della simulazione questo è 25 per cento al secondo se 7 a 0 ovviamente vedete quello che avviene è solamente fumo se metto 150 per cento al secondo vedete che c'è molto più fuoco perché viene emesso materiale incendiabile con molta più potenza al variare di questa ovviamente di questo valore io potrei avere vedete un valore bassissimo quindi un minimo di componente incendiata e poi fumo quindi questo sta a voi e vi permette di decidere quant'è la componente di materiale incendiabile all'interno avete uno smoke rate che quindi vi va a controllare quanto fumo viene emesso al secondo se vado a settare per esempio 0% vedete abbiamo essenzialmente fuoco se vado a mettere 85% ovviamente avrò molto fumo che viene emesso insieme al fuoco e via discorrendo vedete che essenzialmente quello che succede è che diventa quello che vedo è che diventa più denso il fumo e a questo punto per esempio con 1500% quindi un valore esagerato io ho magari una densità del fumo che è più tendente al piroclastico e vedere il fuoco diventa abbastanza difficile dovrei andarmi ad alzare vedete i valori per fare in modo che abbia nuovamente una componente di incendio all'interno del mio materiale quindi ritorniamo su valori un po' più umani quindi nuovamente magari un 25-80 va più che bene temperatura la temperatura ovviamente mi va a controllare la temperatura che viene inserita all'interno della simulazione quindi qual è il massimo livello di temperatura che voglio andare a utilizzare in questo caso sta messo a 4100 gradi kelvin posso andarla abbassare se metto 150 ovviamente come vedete emetto una sbuffata e il fumo poi rallenta e si muove più lentamente perché essendoci meno calore la forza del calore ovviamente fa in modo che il fluido vada verso l'alto si sposti verso l'alto e questo è il balance ovviamente avendo meno calore il fumo tende a spostarsi in quell'aria e meno a salire altra cosa ovviamente avendo una temperatura bassa non riesco a vedere la componente incendiata quindi devo sicuramente iniziare a alzare la temperatura alzando la temperatura vedete che il fumo tende magari ad alzarsi un pochino infatti vedete che diventa più alto rispetto a prima vediamo al prossimo burst se riesco a vedere incendio ancora niente proviamo ad andare ancora oltre però vedete che già adesso sta iniziando a salire e adesso iniziamo a vedere anche l'aspetto sfiammata più basso rispetto a prima ma iniziamo a vedere qualcosa è ovvio che se metto una temperatura ancora più alta avrò vedete una sfiammata ancora più potente fuoco che ci mette di più a svanire e diventare fumo quindi le fiamme vedete sono molto più alte rispetto a prima perché avendo più calore la dissipazione del calore del fuoco diventa ovviamente più lenta serve più tempo e quindi avrò delle fiamme più alte rispetto alla precedenza è ovvio che questi valori poi verranno controllati all'interno della simulazione anche da altri parametri quindi il balance, le turbulenze, i vari effetti di dissipazione, di peso dei vari elementi questi andranno ovviamente a inficiare quello che stiamo facendo però è utile per capire come funziona come sta interagendo con quello che stiamo facendo allora anche questi parametri possono essere animati quindi in teoria io potrei tranquillamente dire che il fuel rate è magari qui settato a diciamo 50 e poi qui è 50 e qui è 0 quindi quello che avrò vedete sfiammata dopodiché nei prossimi burst io avrò solamente fumo perché ovviamente non ha più componente di fuel quindi come vedete il principio dell'animazione si ripresenta in tutte le varie situazioni allora per l'appuntamento di oggi mi fermerei qui quindi aver capito come animare l'attività di un emettitore come controllarne l'emissione perlomeno con l'interfaccia base quindi senza entrare per il momento dei parametri avanzati questo adesso ci permetterà di iniziare con questi primi parametri che abbiamo visto e poi ne vedremo nel prossimo appuntamento a altri come poter iniziare a simulare la presenza di nuvole ovviamente uno dei modi perché poi ci sono sempre molti modi per poter ottenere questo tipo di effetto e successivamente ci sposteremo nuovamente sugli effetti di fuoco, fumo ed esplosione e quindi cercheremo di usare nuovamente i vari parametri dell'emitter e del simulation e del volume come nodi per andare a controllare questo tipo di effetto quindi ragazzi per il momento è tutto per questa puntata ci sentiremo sicuramente tra qualche giorno in settimana verrà rilasciata la prossima e passeremo al nostro primo esercizio completo e spero che riusciremo a ottenere una nuvola molto molto realistica quindi grazie di averci seguito anche oggi e buona giornata a tutti grazie 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 a tutti.